C'è solo un popolo di orari, perché tutti ascoltano gli orari, i più piccoli orari. Non dico parli, non chiedono con me. Non voglio parli, non chiedono con me, non l'ai, non l'ai. Ora perché è che lei, vuoi dire, è che lei non parla, non serve un problema, ti prego a battere un tubo a la figlia, perché sono parte ora, non l'ai, non parla, non serve un problema, oh yeah, yeah.